Oroscopo Sicilia, nuova puntata, scopriamo insieme le previsioni astrali di oggi. Ariete. La necessità di solitudine si fa sentire. Dedica del tempo alla riflessione e relax necessari per ricaricare le energie. Questo periodo di introspezione ti permetterà di chiarire i tuoi obiettivi e di ritrovare l'equilibrio. Non esitare a staccarti momentaneamente dal caos quotidiano per concentrarti su te stesso. Toro. La giornata potrebbe portare un senso di stabilità e sicurezza nelle tue relazioni più intime. Approfitta di questo momento per rafforzare i legami con coloro che ami e per esprimere il tuo affetto in modo significativo. Sii presente attento alle esigenze degli altri, creando connessioni più profonde e autentiche. Gemelli. Oggi è una giornata dinamica, perfetta per fare attività fisica all'aria aperta. Concedetevi del tempo per voi stessi e per riflettere sui progetti futuri. In ambito professionale potrebbero arrivare delle notizie interessanti. In famiglia cercate di essere pazienti. La serata nel complesso sarà abbastanza tranquilla. Cancro. Il weekend inizia con una particolare attenzione al benessere personale. Dedica del tempo a te stesso, magari praticando attività relassanti come lo yoga o una passeggiata immersa nella natura. E' importante riequilibrare le tue energie e trovare la serenità interiore, così da ripartire più carico di prima. Leone. Giornata perfetta per dedicarti ai tuoi hobby e alle tue passioni. Le attività creative ti aiuteranno a rilassarti e a ricaricare le energie. Le relazioni sentimentali saranno armoniose. Approfittane per rafforzarle. Sul fronte lavorativo potrebbero arrivare notizie interessanti. Mantieni gli occhi aperti per nuove opportunità. Vergine. Giornata perfetta per dedicarti alle tue passioni, a ciò che ti rende davvero felice. La tua mente sempre attiva ti permetterà di trovare nuove ispirazioni e modi per migliorare le tue abilità. In amore, la sincerità e la comunicazione aperta rafforzeranno i legami. Non dimenticarti di trascorrere più tempo con le persone a cui tieni. Bilancia. Oggi le stelle ti sorridono, portando armonia nelle tue relazioni personali. È un momento ideale per risolvere malintesi e rafforzare i legami con le persone che ami. Sul lavoro la tua diplomazia sarà apprezzata, aiutandoti a superare eventuali conflitti. Approfitta della giornata per dedicarti a te stesso e alle tue passioni. La serata promette serenità e piacevoli sorprese. Scorpione. La giornata di oggi porta con sé un mix di energia e serenità. Approfittate di questo equilibrio per dedicarvi alle attività che vi appassionano. È un momento favorevole per socializzare e creare legami importanti. Siate aperti alle nuove esperienze e lasciatevi guidare dalla vostra intuizione. Sagittario. La giornata potrebbe portare un senso di gioia e spensieratezza nelle tue interazioni sociali. Approfitta di questo momento per trascorrere del tempo con amici e familiari, ridendo e creando ricordi preziosi da custodire insieme. Si è aperto alle connessioni che si formano e lascia che la natura socievole che è in te brilli. Capricorno. Oggi potresti sentirti particolarmente ispirato dalle persone che ti circondano e dalle esperienze che stai vivendo. Prendi nota delle idee che emergono e lasciati guidare dalla tua creatività. Questo potrebbe essere un momento estremamente fertile per lanciarti nuovi progetti o esplorare nuove passioni mai considerate prima. Acquario. Questo sabato porta con sé un'opportunità per rilassarti e ricaricare le energie. Dedica tempo a te stesso, magari praticando attività che ti fanno rilassare. Trova il giusto equilibrio tra momenti di solitudine e momenti trascorsi in compagnia di coloro che ami. Ti sentirei rigenerato e pronto ad affrontare la nuova settimana. Pesci. È il momento di concentrarti sulle relazioni intime. Dedica tempo al tuo partner e alle persone care. Avete bisogno di ritrovarvi. Si è empatico e comprensivo verso i loro bisogni e sentimenti. È anche un'ottima giornata per esplorare nuove passioni da condividere proprio con le persone che ami. Anche questa puntata di Oroscopo Sicilia è giunta al termine. Come sempre vi ringrazio e vi aspetto alla prossima.